Una buona serata a tutti voi, cari amici, cari amiche di Angoli, come sempre ben ritrovati, grazie, partiamo questa serata insieme ma partiamo anche con una nuova settimana da trascorrere ad Angoli con tantissimi ospiti e vogliamo iniziare questo appuntamento perché ormai siamo sempre più vicini al Natale parlando di quello che è il dolce tradizionale delle feste, il panettone. Bene, questo panettone ha vinto un premio, è il miglior panettone milanese, forse anche il miglior panettone del mondo, chi lo sa ascolteremo la storia direttamente dai miei ospiti. Io saluto, ringrazio e ritrovo con grande piacere Cesare Bai, ciao Cesare, grazie per essere qui. Ciao, è un piacere anche per me. Grazie, insieme a te Tommaso Bai, ciao Tommaso e grazie per essere qui. Grazie, come ho detto, questo è un panettone, ora ascolterete tutto nel dettaglio, che ha avuto un premio importante, è stato premiato dal Vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti, dall'organizzatore del futuro Museo Nazionale del Panettone, che aprirà tra qualche tempo e quindi tutto questo naturalmente parte da una grande storia. Cesare, raccontaci un po' quanto tempo indietro nella storia dobbiamo andare per trovare il primo panettone. Beh, diciamo, possiamo andare indietro di due secoli e mezzo. Addirittura. Perché appunto la nostra famiglia, la famiglia mia e di mio figlio Tommaso, diciamo è l'erede di questa tradizione, anche se poi noi nella vita abbiamo fatto tutt'altro. Ma il nostro bisnonno nell'Ottocento, ma prima di lui il suo padre, il suo nonno, eccetera, eccetera, diciamo che dal 1768 si ha notizia che esiste questa pasticceria che faceva il panettone. Il merito del bisnonno Giuseppe, mio bisnonno, suo trisnonno Giuseppe, invece è stato quello di far diventare il panettone da un dolce locale di Milano, come era fatto in tante botteghe dell'epoca, invece di farne un prodotto diffuso prima in tutta Italia e poi in tutto il mondo. E quindi è stato nella prima metà dell'Ottocento e soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento quello che ha diffuso il panettone un po' in tutto il mondo. Abbiamo i passaporti appunto del bisnonno che andava in Russia, la corte degli Zara a vendere il panettone, piuttosto che aveva una sede a Chiasso per i trasporti ferroviari, una sede a Genova per i trasporti via nave per gli altri continenti. Insomma, si è dato da fare moltissimo in un periodo della storia molto bello che è la seconda metà dell'Ottocento, un periodo di grandissimo sviluppo dell'industria, di tutto, un periodo con poche guerre, l'Italia si era fatta e purtroppo non sono arrivati poi i guai che sono avvenuti poi nel Novecento e quindi è stato un periodo di grandissimo sviluppo che il mio bisnonno ha sfruttato appieno. E ha saputo consolidare poi anche nel tempo, trasformandolo proprio in un momento molto importante per questo dolce che oltretutto vanta anche delle confezioni molto belle perché abbiamo visto alcune immagini affascinanti, proprio anche per lo stile particolare della confezione. Ovviamente era un periodo anche di grande rivoluzione della grafica perché si è cominciato a stampare in cromolitografia, quindi a colori, mentre prima si stampava solo in bianco e nero oppure c'erano delle coloriture a mano. Invece lì hanno cominciato a stampare a colori dappertutto con una grafica e dei caratteri bellissimi. E lo vediamo bene, guarda qui. Noi la conosciamo, si chiama grafica vittoriana perché poi è stata lanciata moltissimo nel periodo vittoriano in Inghilterra e però l'Italia non è stata da meno e devo dire che il mio bisnonno ci ha dato dentro. Eh, non ha scherzato affatto, guarda un po' che belle confezioni. Infatti confezioni diversissime in legno, lacca, vetro, ceramica, metallo, cartone, confezioni di tutti i tipi e rese poi con carattere, con una grafica molto bella e molto particolare. Quindi diciamo ha fatto sicuramente un prodotto di alta qualità che è stato e poi apprezzato non solo perché è un prodotto classico con in questo caso una grafica classica ma era anche apprezzato molto da Marinetti che era un grande frequentatore del punto vendita del bisnonno che era in piazza del Duomo Milano. Che era un covo di futuristi se non mi sbaglio, no? Sì, era il covo dei futuristi, la pasticceria del bisnonno dove Marinetti tutti i Natali regalava agli amici un panettone buy insieme alla sua edizione annuale della rivista di poesia che si chiamava appunto Poesia e lo mandava insieme al panettone. Quindi una storia bellissima che naturalmente, per logica conseguenza, Tommaso vengo da te, porta a tanti premi perché più di uno è stato assegnato a questo panettone ma recentemente un premio che poi vi proietta proprio al museo del quale tu ci vuoi parlare, vai! Esattamente, circa il mese scorso abbiamo ricevuto questo premio da Emanuele Giordano che è l'ideatore del Museo del Panettone Nazionale che aprirà Milano tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 2024-2028 Scusa Certo La cosa più interessante è la motivazione del premio che mi ha comunicato per telefono che è per aver fatto la storia del panettone di Milano E questa è una bella soddisfazione Enorme soddisfazione diciamo che gran parte del merito va alle generazioni precedenti alla nostra però l'intuito di riportare il panettone sul mercato è nostro E quindi l'avete portata avanti La nostra piccola parte di storia l'abbiamo comunque fatta anche noi Ecco, quindi Sì, più che portata avanti l'abbiamo reinventata Reinventata, perché dici così Cesare? Perché dopo la prima guerra mondiale c'è stata la guerra, l'autarchia Il bisnone era morto, c'erano i figli che hanno continuato poi ciascuno la sua attività Per cui la cosa si è ridotta molto Finché è scomparsa e noi l'abbiamo riesumata 5-6 anni fa Riregistrando il marchio e riprendendolo a una produzione di alta qualità del panettone Quindi un momento importante che naturalmente è un vanto vostro come eredi e successori di questa bella iniziativa di chi è venuto prima di voi Ma sicuramente è un vanto per l'Italia tutta perché il panettone sappiamo bene è il dolce proprio tipico di Natale Il nostro, che poi in giro per il mondo tutti copiano tutto È il dolce più venduto del mondo È il dolce più venduto del mondo Assolutamente, quindi farà il giro del mondo ancora più con grande soddisfazione da parte di tutti noi Grazie a Cesare Bai, grazie a Tommaso Bai e a questo vostro impegno Posso aggiungere solo un brevissimo? Molto volentieri, vai Insieme alla mostra di Fortunato De Pero, che è un tardo futurista del secolo scorso Ci sarà una piccola mostra sul panettone Bai al Max Museo di Chiasso a partire da domani fino all'Epifania Un bel appuntamento da non perdere, si assaggia anche il panettone? Sì, il giorno 22 Vabbè, fantastico, quindi l'ho detto per dire ma mi sembra un'ottima motivazione per andarci Grazie, buon Natale, buon panettone e a prestissimo E ora c'è un concerto di un chitarrista internazionale di fama incredibile Tra un secondo vi dico dove e quando E ci colleghiamo immediatamente con Roberto Cerabino Che ci racconta di un concerto con un artista davvero di fama internazionale Ciao Roberto, benvenuto ad Angoli, grazie Ciao Dolores, buonasera, grazie Roberto, come ho detto un artista internazionale che tra poco regalerà a chi vorrà seguire questo concerto Un momento artisticamente molto alto Ce ne parli? Quando e dove innanzitutto? Sì, dunque, quando sarà il 16 dicembre, sabato prossimo Presso il mio negozio che vedete alle mie spalle Carenico di Lecco, quindi in via dei pescatori 49 Chi sarà questo artista internazionale? Eccolo qua, Michel Plagger Parlaci appunto di lui perché è davvero un bassista, un chitarrista di fama internazionale Sì, Michel Plagger è un chitarrista danese Che sono venuto a conoscenza di lui E è nata questa amicizia Perché lui ha una casa a Colico Pensate, la casualità, quindi molto vicino a noi Ed è, c'è un'amicizia in comune Che è il contrabassista famosissimo, contrabassista danese Jesper Bodilsen Che ha suonato con Stefano Bollani E è venuto a suonare qui da me diverse volte Insieme anche ad Antonio Zambrini Quindi tramite Jespa abbiamo questa amicizia in comune E l'opportunità di avere questo chitarrista strepitoso Che ha inciso 17 album Ha suonato in giro in 25 paesi nel mondo È poco conosciuto in Italia Ma è veramente un talento imperdibile Quindi la prima considerazione è che i VIP e i grandi artisti Continuano comunque a scegliere il Lago di Como E anche il Ramo di Lecco nella fattispecie Perché comunque è amato e conosciuto E ci fa piacere che ci sia questa opportunità Che artisticamente è molto molto interessante Come tu ci dici Quale sarà comunque il repertorio di questo concerto Di questo momento musicale? Che cosa regalerà agli amici che saranno presenti? Il repertorio è un punto di domanda Anche per me francamente Non mi è dato di saperlo Sicuramente attingerà Sarà tutto repertorio suo Di brani autografi Quindi penso anche Ho sentito dei suoi lavori Di canzoni natalizi e danesi Del 1500 Per cui presumo che farà anche qualcosa di popolare danese Quindi sarà davvero un momento molto particolare Un momento da non perdere Roberto ti invito a ricordare quindi dove e quando E soprattutto come si può partecipare Se bisogna prenotare Se c'è un ingresso libero Che cosa succede? Allora dove è Alecco Pescarenico In via dei pescatori 49 Presso il mio negozio Cerabino Pianoforti Che vedete alle mie spalle E' consigliata la prenotazione Perché i posti sono limitati Lo spazio non è molto grande Quindi ci sono più o meno una quarantina di posti Si può prenotare all'indirizzo email Eventi Chiocciola Pianoforti Cerabino Punto com E la cosa che mi piace ricordare Prima di salutare tutti quanti E naturalmente anche te Che in quello spazio Come tu hai detto Lo vediamo alle tue spalle Ci sono tanti pianoforti Di ogni genere Di ogni tipo E quindi tutto questo Creerà un'atmosfera Molto particolare E' vero Roberto? E' vero E' vero Vi suonano i pianoforti Insieme alla musica Degli artisti che io ospito Ecco questo è il motivo per il quale Quindi a cappello e a chiusura Della nostra chiacchierata Tu organizzi questi concerti lì Proprio perché questi pianoforti Poi suonano e risuonano Insieme agli artisti Che tu hai lì con te Grazie a Roberto Cerabino E ci rivediamo presto Buona musica Grazie Grazie a voi Buona serata a tutti Arrivederci Grazie C'è una breve pausa pubblicitaria E poi cambiando argomento Naturalmente Continuiamo a stare insieme ad Angoli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti